Fabrizio Chetti, da Novara, soddisfatto di questa maratona? Tantissimo, veramente bella il percorso e tutto il resto bellissimo. Cosa porterai a casa? Porterò a casa questa città che mi è rimasta nel cuore e tutto il resto, tutta la fatica che ho fatto di sicuro. Grazie. Grazie a te. Grazie, ciao, grazie.